Circa vent'anni fa prendeva avvio la riscoperta di Luigi Vittorio Bertarelli, il più importante pioniere del turismo italiano, animatore entusiasta e instancabile del primo cicloturismo e poi principale artefice del Touring Club italiano. La nobile e popolare istituzione, oggi ultracentenaria, che negli ultimi anni ha celebrato questo suo protagonista storico. Quando si riprese a parlare di Bertarelli, originale industriale milanese, formidabile sportivo e curioso viaggiatore, lo si fece a partire dal ritrovamento, presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, di due opuscoli contenenti i dimenticati diari di due viaggi ciclistici effettuati in Calabria e in Sicilia, 3-4 anni dopo la fondazione del Touring Club ciclistico italiano avvenuta nel 1894. Il progenitore del TC, che sarebbe poi nato nel 1900, caduta la seconda C per presa d'atto dell'avvento dell'automobile. Di quei diari, pubblicati a fine Ottocento dal giornale sportivo La Bicicletta, erano stati stampati anche degli estratti, in forma per l'appunto di opuscoli, dei quali fortunatamente si conserva un superstite esemplare nella impareggiabile Biblioteca Fiorentina. La rilettura di questi diari ha consentito di ricostruire la figura di Bertarelli, restituendo al nostro il ruolo di pioniere del turismo, di straordinario divulgatore e organizzatore culturale, ma anche di scrittore convincente e moderno, in un'epoca caratterizzata dai rapidi mutamenti indotti da un inedito slancio industriale. L'ultimo decennio dell'Ottocento, in effetti, vedeva il declino irreversibile dei tradizionali mezzi di trasporto. L'Italia si dotava di una rete ferroviaria che finalmente la attraversava in lungo e in largo, mentre le strade si facevano più larghe e comode, ed erano percorse non più solo da carri, carretti e carrozze a trazione animale, già che nella penisola, come in tutto l'Occidente, la giovane industria della gomma trasformava ormai il caucciù amazzonico e congolese in moderni pneumatici, da montare sulle ruote di sempre più numerose e agili biciclette, e le quali ultime, in breve volger di tempo, nel nuovo secolo, avrebbero ceduto il posto alle automobili. Si trasforma così la natura stessa del viaggio, da sempre invariabilmente affidato ai ritmi lenti degli spostamenti a piedi, a dorso di muro e, nel migliore dei casi, in carrozza. I treni, peraltro, collegavano tra loro soltanto le principali città del paese, sicché l'attraversamento del territorio impervio della penisola lo si poteva affidare talvolta solo alla velocità, faticosa ma inebriante, delle biciclette, le quali però, a differenza del treno, conservavano un rapporto diretto, fisico, col territorio. Da questo punto di vista, il viaggio in bici è davvero emblematico di una breve ma importante transizione, poiché la fisicità del rapporto col paesaggio antropizzato si sarebbe perduta rapidamente con l'avvento dell'automobile e Bertarelli va considerato sicuramente come il protagonista più attivo e consapevole di questa transizione. Una consapevolezza, la sua, che gli consentirà di lavorare ancora, per quasi 30 anni, alla direzione del Touring Club, progettandone la insuperata cartografia e orientandone tutta l'attività di divulgazione turistica e culturale. Questa sua opera pionieristica, tra Otto e Novecento, era ispirata da franchi propositi patriottici di intonazione risorgimentale, tesi al compimento effettivo dell'unità nazionale attraverso una puntuale e scientifica rilevazione del territorio, con la quale egli metteva a frutto una sicura mentalità positivista e ordinatrice, un'attitudine questa che emergeva nitidamente dal modo di progettare e condurre viaggi, nei quali la tempra sportiva e il gusto dell'avventura erano sempre governati da una forte intenzionalità civile, nonché dagli scopi pratici della divulgazione, mirante a creare proseliti del cicloturismo, non solo a Milano e Lombardia, ma anche nel sud, il più appartato, e in Sicilia. E i risultati non tardano ad arrivare se il touring dai 20.000 iscritti di fine Ottocento balsa ai 130.000 soci che si contano alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Così si spiega, con tutta evidenza, la scelta di effettuare le prime e più importanti imprese cicloturistiche nell'estremo sud. Nel 1897, quando decide di recarsi in Calabria, Bertarelli è consapevole di andare incontro al diverso, a un territorio per certi versi ancora da guadagnare alla causa dell'Italia Unita. Un territorio rispetto al quale la borghesia lombarda, di cui egli è espressione, sia pure eccentrica e illuminata, e l'intera Italia, che si è immessa con entusiasmo sulla via della modernità industriale, nutrono solidi e antichi pregiudizi. Non è un caso che il diario calabrese di Bertarelli sia introdotto da Augusto Guido Bianchi, che era il redattore più autorevole e colto del Corriere della Sera, impegnato qualche anno prima in una dura polemica con Gabriel Tarde, il criminologo francese fondatore della psicologia sociale, al quale si riproverava di non riconoscere i suoi debiti nei confronti dell'antropologia criminale italiana. Lo stesso Bianchi era un prezioso collaboratore di Scipio Sighele, nei noti studi di psicologia della folla, di cui questo importante criminologo italiano dava della questione meridionale una spiegazione raziale. Ma i giudizi di Bianchi sulla Calabria in realtà suggeriscono di riguardare con prudenza le opinioni razziste dell'antropologia criminale sul Mezzogiorno, se lo stesso Bianchi, introducendo il diario di Bertarelli, mostra di essersi rapidamente ravveduto a proposito della Calabria, dicendo tra l'altro. Se parlate con uno dell'alta Italia della Calabria, questi si svolterà paurosamente il capo e vi parlerà di briganti, di cappelli a cono, di tromboni. E se voi gli rispondete che tutta questa roba è finita nei musei, egli vi dirà che la scomparsa non può essere totale, non vi saranno briganti, ma non mancheranno malviventi. E queste idee sono così radicate che io ricordo di essermi nel 1892 recato in Calabria con queste prevenzioni. Ne valeva rassicurarmi la sicurezza di un amico che in Calabria da dieci anni vi abita, ma dopo un mese di dimora mi convinzi che tale prevenzione è la più ingiusta delle offese che si possa fare a una popolazione che professa l'ospitalità come una religione e che maneggerà ancora il fucile o il coltello per un'idea ancora ipertrofica dell'onore, mai a scopo di lucro. Sotto questo aspetto il viaggio di Bertarelli dovrebbe insegnare qualcosa a noi dell'alta Italia, cioè che la sicurezza laggiù non potrebbe essere più grande e che un ciclista può viaggiarsene solo, sicurissimo di trovare ovunque ospitalità. Verrebbe da pensare che Bianchi esageri un po', forse per assecondare Bertarelli nel suo disegno politico che mira a gettare le fondamenta di un progetto turistico per l'intero paese. Bianchi, infatti, vuole sì tranquillizzare i lettori milanesi, assicurando loro che il calabrese, anziché essere un barbaro, forma una delle più gentili e delle più squisitamente cortesi popolazioni italiane. Ma egli stesso è consapevole anche della distanza enorme che separa ancora il sud dal resto d'Italia, nella percezione di un ipotetico italiano medio, il quale sa benissimo la differenza che passa fra un bretone e un normanno. Ma, aggiunge Bianchi, considera napoletano tanto un calabrese che un napoletano autentico. L'intenzionalità civile di Bertarelli mira per l'appunto a sgretolare questo muro spesso dell'ignoranza e del pregiudizio. Ed egli lo fa nella maniera più spiccia e moderna concepibile a quel tempo. Cinematografare cinque giorni di escursioni in un paese nuovo, per dare, così, non più la fotografia fredda e immobile, ma il quadro animato che scorre davanti all'occhio. Certamente, in questo proposito di osservazione, veloce come una sequenza cinematografica, è contenuto in nuce il rischio della fuggevolezza e della superficialità del futuro turismo di massa, che escluderà il profondo coinvolgimento del viaggiatore di un tempo, scandito dal lento e reiterato confronto con gli spazi attraversati e con i segni dell'azione antropica. E tuttavia, in Bertarelli si conserva l'idea e la pratica borghese e romantica del viaggio come scelta di libertà, come sfida e conquista, in cui si combinano spirito sportivo e sede di conoscenza. A differenza di questa tradizione borghese romantica, però, il viaggio del nostro ciclista non è più atto gratuito e fine a se stesso, bensì operazione utilitaria, funzionale a un progetto, che è quello della conoscenza e del rilievo scientifico del territorio e delle vie di comunicazione, come operazione preliminare all'avvio di una moderna politica turistica. In tal senso è emblematica, assieme alla scrittura del diario, la compilazione dei profili ciclistici, ossia delle prime carte stradali del territorio attraversato, che sono il punto di partenza di tutta la successiva e ineguagliata cartografia del touring. Il viaggio inizia una mattina di primavera del 1897, a Reggio Calabria, dopo 36 ore di viaggio in treno, tante ne occorrevano per giungervi da Milano. Inforcata la bicicletta, Bertarelli incontra quasi subito l'unico paesaggio industriale dell'intero viaggio, a Villa San Giovanni, lungo lo stretto di Messina. Osserva numerose filande di seta, con la loro architettura disadatta di chiese ma riuscite, molte delle quali erano state finanziate da capitali inglesi. Le cronache del tempo, infatti, attribuivano l'origine della prima filanda a vapore all'intraprendenza dell'industriale inglese Thomas Hallam, approdato in questi luoghi intorno alla metà dell'Ottocento. Non poteva immaginare, Bertarelli, che con la sua passeggiata ciclistica avrebbe offerto una delle ultime testimonianze della vitalità di quell'unica isola industriale sulla punta estrema della penisola. Undici anni dopo, le filande di Villa saranno spazzate via dal tragico terremoto di Messina del 28 dicembre 1908. Pedalando lungo la costa, sino alla piana di Sant'Eufemia, il nostro non avrà più l'opportunità di osservare segni di moderna civiltà economica. Dovrà, piuttosto, registrare le visibili tracce delle ripetute catastrofi che si erano abbattute sulla Calabria meridionale, dal lontano ma non dimenticato terremoto del 1783 a quello recentissimo del 1894. I segni del primo si offrono al moderno ciclista con i ruderi della Rocca di Scilla e con le rovine della Bazzia di Mileto. Le devastazioni dell'ultimo sisma sono visibili nel triste villaggio di baracche incontrato a palmi, ridente cimitero pieno di verde, di sole e di vittime. È dunque lo spettacolo di una drammatica dipendenza dalla natura quello che si mostra allo sguardo del viaggiatore, colpito anche dalla cupa minaccia della malaria, colta nell'attraversare la Piana di Gioia, tremendo paese, dove, scrive, il personale della stazione è cambiato ogni 24 ore. Perfino i contadini, livida processione, prima del cadere del sole, fuggono verso palmi. Eppure la vegetazione è meravigliosa, gli uriveti imponenti, vasti campi di fave si alternano a cedui inestricabili, a macchie dense, irte di rovi. Ma dove il terreno è scoperto, introducendo un bastone tra zolla e zolla nelle screpolature, a 40 e 50 centimetri, si incontra un fondo di melma entro cui la punta sparisce per uno o due metri. È l'officina micidiale dei miasmi. La primitività delle condizioni di vita, disegnate ancora in buona misura dalle difficili condizioni ambientali, dalla tormentata orografia del territorio, dalla durezza e dalla varietà dei climi, è un dato del quale Bertarelli è costretto ben presto a fare esperienza. A Mileto, prima sosta del viaggio, il ciclista pernotta infatti in una stamberga, non senza registrarvi la presenza di un porco vivo che grufola negli angoli. Il giorno successivo, a Soveria, dopo una tappa di 120 chilometri, lo attende, ancora una volta, un albergo poco entusiasmante, dove convivono due vecchie streghe, un maiale irsuto, dei ragazzi sbrindellati. Nel terzo giorno di viaggio, superata la valle del Savuto e dopo una breve sosta a Cosenza, affronta 40 chilometri di pedalate lungo il corso del Crati, altro regno della malaria, il cui paesaggio è descritto in una pagina di rara efficacia. Immense macchie totalmente deserte coprono la larga valle, macchie dove predominano lontano la betulla, la sabina e la canna palustre, dove dappertutto, come nelle giangade brasiliane, l'acqua c'è o corrente o stagnante o visibile o nascosta. Non una casa, non una persona nel lungo tragitto. La strada silenziosa passa talvolta per chilometri nell'ombra del bosco. Più lontano, in una radugura, pasce una mandria di buoi dalle lunghissime corna divergenti. Poi è un canneto fittissimo e alto, addossato alla strada. Odo un sbatter d'ali pesante, guardo in alto, passano ridicoli, nel loro volo sciatto, dei grossi trampolieri. Il collo teso è tirato avanti, la coda piccola raccolta sotto il ventre, le lunghissime zampe penzolanti come i contrappesi di un orologio. Poi ecco la distesa di acqua pantanosa. Uno stormo di anni tredi si leva, sbatte le ali, radendo con le palmate zampe le acque tranquille e si posa più lontano. Dalla melma emergono teste colossali di bufali, che se ne stanno a ruminare il corpo nascosto nella mota. Nulla sembra cambiato dagli inizi dell'Ottocento, quando il viaggiatore francese Astorff de Crustin aveva temuto di morire proprio in quei luoghi, sprofondando col suo mulo nel pantano di una risaia, mentre scorgeva da lontano solo il profilo di bufali immobili. E tuttavia le novità ci sono. La strada percorsa a fine secolo da Bertarelli è sicuramente più agevole, ed essa scorre inoltre accanto alla ferrovia Sibarico-Senza, costruita da circa un ventennio. Ma la migliore viabilità non incide sul tremendo quadro ambientale, nel quale è consentita agli uomini solo una maggiore mobilità, ma non la modificazione della dipendenza degli aggregati umani dalla natura medesima. Vale la pena forse di richiamare che in quegli anni il grande esodo dell'emigrazione transoceanica, in Calabria e in Basilicata, si configura sì come avventura e come ricerca di cambiamento, ma anche come fuga da una natura ostile e avara, nonché dal greve dominio dei possidenti e dei galantuomini, tra virgolette. Strade e ferrovie, allora, più che modificare le relazioni umane interne al territorio, contribuiscono a definire l'estremo sud come terra di transito e di fuga. Ma le sorprese per Bertarelli non sono finite, poiché a Castrovillari, sede del terzo pernottamento, questa volta in un vero albergo, è visibile una spessa coltre di neve sui monti del Pollino. Il giorno successivo non è certo allegra la salita della dirupata, l'acqua che vi è corsa, l'ha trasformata in un letto di torrente, fino al valico di Campotenese, a mille metri di altezza. Ma sono le Alpi? Il viaggiatore si rinfranca, poi nella discesa che lo porta da Mormanno a Laino e quindi in Basilicata, verso Lago Negro, salutato da almeno mille mormannesi, prima esterrefatti e poi entusiasti del coraggioso e moderno ciclista. L'ultimo pernottamento di Lago Negro precede la tappa finale, che lo condurrà ad Eboli attraverso il Vallo di Ediano e Sala Consilina. Bertarelli, nel corso dell'intero viaggio, è visto dalla popolazione delle campagne e dei villaggi, dove non è mai passata prima una bicicletta, come un alieno. Nel regino una donna lo apostrofa. Venite dall'America? A Mormanno gli chiedono, siete inglese? Alla Ino tre signori del luogo, pur sapendo che da qualche parte qualcuno ha inventato gli pneumatici, si smascellano dalle risa, vedendogli gonfiare una gomma. E non poteva essere diversamente queste cose dell'altro mondo, non potevano che arrivare da molto lontano, dall'America o quantomeno dall'Inghilterra. E tuttavia Bertarelli non si stanca di annotare, di volta in volta, non solo la sorpresa e la diffidenza, ma anche la compostezza, il silenzio, la gentilezza dei suoi interlocutori e la totale assenza di pericolo, derivanti da una paventata e mitica violenza sociale e criminale. Numerose sono, però, anche le occasioni per osservare e registrare la primitività delle condizioni di vita, visibili nelle abitazioni dei villaggi e nella sporcizia degli ambienti e delle persone. Il ciclista osserva la lunga sequenza della miseria, interrotta raramente dall'ingresso nei centri più cospicui, come Monteleone, l'odierna Vibo Valencia, Cosenza e Castrovillari. Quando sarà fuori dalla Calabria, ammirerà l'auria dai tetti di tegole rosse, con le casine bianche intonacate e dipinte, con villini e viagli alberati, un oasi dopo il deserto. Le attente osservazioni paesaggistiche e climatiche e le meticolose informazioni relative alle condizioni e alle pendenze della strada sono cadenzate inoltre da tre occasioni di conversazione serale nei luoghi di pernottamento, a Mileto, Castrovillari e Lago Negro, con militari, professionisti e proprietari del luogo. Bertarelli ne trae occasione per rapide e incisive annotazioni sulle condizioni sociali della regione, sulla mentalità dei ceti proprietari, di cui registra la gretta ostilità nei confronti di contadini e braccianti e sulla sopravvivenza tra i possidenti di antiche consuetudini feudali come il maggiorascato. Il nostro ciclista si proponeva di cinematografare cinque giorni di escursioni, ma non c'è dubbio che sia riuscito a fare molto di più. Sullo sfondo di un sempre mutevole paesaggio, egli infatti si è mostrato capace di descrivere e tratteggiare le persone che vi si muovono, offrendo ai lettori il frutto dell'acutezza e dell'intelligenza che gli derivavano dalla sua enorme e moderna esperienza di viaggiatore. Un'esperienza solidamente fondata su un'attenta percezione del territorio, in rapporto al quale egli coglie e osserva la presenza umana. Dopo il ritrovamento del diario calabrese di Bertarelli, ripubblicato per la prima volta nel 1989, alcuni moderni cicloturisti, sorpresi ed emozionati dalla scoperta, si sono messi sulle sue tracce, rifacendo la strada che il loro pioniere aveva percorso da Reggio a Eboli, affrontando difficoltà tecniche e ambientali oggi inconcepibili. Ma solo intorno al sostizio d'estate del 2006, a oltre un secolo di distanza dall'impresa di Bertarelli, un cicloturista assai particolare ha rifatto lo stesso percorso in bicicletta, traducendolo anche in un interessante e gradevolissimo diario che abbiamo affiancato in questo volume a quello di Bertarelli. Si tratta dell'urbanista napoletano Roberto Gianni, che ha riconosciuto nella passeggiata ciclistica del nostro pioniere una straordinaria esperienza conoscitiva, tesa alla scoperta di un territorio ritenuto inospitale e selvaggio. Certamente il cicloturista di oggi è impressionato dalle difficoltà tecniche del viaggio di Bertarelli, dovute ai dislivelli pazzeschi della strada, al precario fondo stradale e alla tecnologia elementare della bicicletta adoperata. Ma Gianni è rimasto ancora più impressionato e incuriosito dalla descrizione di una Calabria interna che non ha nulla a che fare con l'attuale Calabria costiera, degradata da una decennale dissennata urbanizzazione a carattere speculativo, che ha compromesso il paesaggio senza produrre alcunché in termini di turismo civile e sostenibile. La lettura ai Bertarelli ha spinto Gianni verso una Calabria ben distante dalle macerie della speculazione e del turismo selvaggio. Di conseguenza egli ha scoperto che neppure questa Calabria è ormai incognita e incontaminata come un tempo e che tuttavia essa si lascia apprezzare per le sue bellezze paesaggistiche, anche le più intime e nascoste. La distanza tra i due viaggi non è solo cronologica. Bertarelli voleva osservare le condizioni locali per verificare la possibilità di dare avvio a un turismo moderno anche in Calabria e sulla sua strada trova per dormire quasi soltanto stamberghe da condividere con gli animali. Gianni parte dal rifiuto di un invadente turismo di massa, aggressivo e impagno. E' privo di qualità che senza produrre sviluppo stravolge, banalizza e impoverisce il territorio ma può riposare in case accoglienti, tranquille, pensioncine e B&B. L'uso dello stesso mezzo meccanico, la bicicletta, avviene in contesti storici tanto diversi da dar luogo a esperienze di viaggio completamente diformi. Quella di Bertarelli è un'impresa sportiva eccezionale, realizzata a un ritmo assai sostenuto, usando un mezzo per quei tempi veloce. Alla fine dell'Ottocento la bici infatti è il mezzo più rapido che si possa adoperare in luoghi impervi in cui non arriva il treno. Il viaggio ciclistico di Gianni invece, seppur faticoso, non richiede muscoli da inimitabile primato sportivo e il suo ritmo, lo stesso del viaggio di Bertarelli, è divenuto lento a paragone della velocità e dello spazio divorato dai mezzi odierni. Gianni infatti sperimenta che la difficoltà del quieto viaggio cicloturistico di oggi è quella di dover fare i conti con l'invadenza prepotente di auto, moto e camion che in Calabria riempiono rumorosamente quelle stesse strade che Bertarelli aveva visto deserte di uomini e cose. Gianni si è messo in viaggio con in mano le mappe stradali disegnate a fine ottocento da Bertarelli, scoprendo, dopo più di un secolo, l'ineguagliata precisione di quei dettagliatissimi profili altimetrici. Con grande rigore filologico ha ripercorso la strada delle Calabrie, di murattiana e borbonica memoria, invertendo soltanto la direzione, ossia partendo da nord anziché da sud. Dal Vallo di Tiano, in Campania, a Villa San Giovanni, sullo stretto, il crucio ricorrente espresso nel suo diario è quello di attraversare un territorio che ha perso la virginità selvaggia che aveva al tempo di Bertarelli, ma non ha ancora acquisito una modernità originale né coerente con la propria storia e le proprie tradizioni. Tuttavia, malgrado questa modernità banale e fastidiosa, giunto al termine Gianni è convinto che un viaggio lento nella Calabria interna consente di provare ancora il gusto della scoperta, il piacere di vivere un'esperienza unica e indimenticabile. Gli è davvero difficile sopportare la vista di un accanimento senza senso, sullo storico patrimonio di Lizio Campestre, che dava ordine ed eleganza alla trama degli antichi percorsi agricoli. Dalla Valle del Crati a Vibo Valencia e all'area dello stretto è costretto deprecare di continuo una urbanizzazione priva di regole e inospitale, che affastella tutto il campionario delle misere funzioni delle zone di espansione speculativa ai margini dei centri urbani meridionali, il solito miserabile campionario del non finito. E tuttavia, pedalando ostinatamente per cinque giorni, risulta ancora riconoscibile e attraente uno straordinario e irripetibile tracciato che, alla varietà e bellezza del paesaggio e degli insediamenti attraversati, unisce possenti memorie storiche e letterarie. E' la strada statale numero 19 delle Calabrie, che ripercorre l'itinerario della romana via Popilia, riesumata e risistemata dai francesi e dai borboni nella prima metà dell'Ottocento e che rimarrà a lungo l'unica via di collegamento col resto d'Italia. Sicché, tra il Pollino, la Sila e la Spromonte, Gianni ha più volte l'occasione di assaporare con lo sguardo paesaggi mutevoli e misteriosi, di sentire gli odori dei boschi e poi quasi d'improvviso di vedere le macchie e le rocce dei paesaggi mediterranei. Una rogliano, armoniosa e fresca, gli fa dimenticare la calura che stroncherebbe anche un cammello, sopportata nella polvere della conurbazione cosentina. E nella garibaldina Soveria Mannelli, dove c'è un bel fresco che esalta l'odore del bosco, può consolarsi constatando che funziona ancora un tratto di quelle ferrovie calabro-lucane, altrove sventuratamente smantellate. E infine, a Reggio Calabria, su lungomare Falcomatà, ci racconta. Stasera, come tutte le sere, specie d'estate, il lungomare è nero di gente, come si dice qui, cioè è affollatissimo. Diverse decine di migliaia di cittadini, in una mistura interclassista, come si vede solo sulle spiagge di Rio de Janeiro. Palme, caffè, spettacoli, gelati, è una festa indimenticabile. Sembra il capolinea finalmente conciliante e festoso di un percorso tanto affascinante quanto complicato. Le calabrie di un tempo, pare dirci Giannè, ci sono ancora e giustificano le fatiche di un viaggio cicloturistico. Ma bisogna saperle cercare nelle pieghe della banalizzazione e della più sciatta omologazione. Uomini e luoghi capaci di memoria e dotati di senso si muovono ancora in questi spazi che hanno, malgrado tutto, conservato una fascinosa molteplicità. Giannè li ha saputi incontrare da Lago Negro al Reggio, sopportando complicazioni e dissonanze. E lungo il percorso ha incrociato qua e là solo alcuni cicloturisti stranieri. Lui, napoletano eccentrico, che vorrebbe indicare un modo ancora autentico e coinvolgente di viaggiare agli italiani di oggi. Vittorio Cappelli